Il neopresidente del BIM, Bacino, Imbrifero, Montanovo, Mano Tordino, Giuseppe D'Alonso, ha lavoro per nominare entro i prossimi giorni la squadra che avrà il compito di appoggiarlo in questo nuovo percorso dell'ente. Ma come primo appuntamento il sindaco uscente del comune di Crognaleto sta lavorando in un convegno a Teramo per discutere delle opportunità derivanti dal PNRR. Stiamo lavorando già dal giorno successivo all'elezione per trovare la quadra, poiché il BIM, come è stato detto, è una struttura del territorio, quindi dei sindaci. Finita la competizione, adesso non c'è più lo spartiacque, io lavorerò per essere inclusivo, questo è il termine giusto, per fare un'aggiunta che dia soddisfazione e risposta. Io credo che tra oggi e domani, seppur non completa, poiché la politica ha bisogno di ragionamenti che vanno ben oltre i tempi che pensa oggi il Presidente. Ma faremo un'aggiunta, lo definirei io, smart, due o tre componenti, intanto per dare il via a tutte quelle istanze che sono ferme da troppo tempo al consorzio, oltre 25 richieste e quindi la possibilità di essere operativi. Non il Presidente, ma il consorzio BIM. Fatta la squadra, quale sarà la prima iniziativa che metterà in campo? Abbiamo parlato intanto di riorganizzare la struttura, abbiamo parlato del PNR, dei fondi complementari, stiamo lavorando con l'ufficio Stamba, con gli organi del consorzio stesso, a un convegno dove bisogna presentare alle città i prossimi bandi del PNR. Guardate che c'è una carenza di informazione da fare paura e credo che questo sia uno degli elementi che caratterizzerà questo BIM, cioè tutti alla conoscenza di quello che sta per accadere. Entro giugno usciranno le schede e molti non sanno nemmeno di che cosa stiamo parlando. Ma al centro delle linee programmatiche del nuovo Presidente del Consorzio, di cui fanno parte, ricordiamo, 26 comuni, c'è anche la questione di voler revisionare i sovraccanoni pattuiti oltre dieci anni fa. Io già ho fatto una grossa scommessa nel mio comune, ho messo nel programma la revisione dei canoni e sovraccanoni, ricordiamo la legge 25 dove accandonarono in regione 4 milioni di euro per i comuni del bacino in brifero, cosa che poi non si è mai consolidata, quindi sarà un percorso che farò già stretto giro. Stamattina ho parlato con l'ufficio tecnico per pianificare a breve un incontro, ovviamente con professionalità, anche esterne se necessitano, perché l'obiettivo è quello di portare a casa le risorse che poi ovviamente sono risorse dei nostri cittadini.